Senti, quando è che ci si vede gli tè? È lunedì No, io lunedì c'ho pallavolo Martedì no, perché c'è il gas, c'è la riunione Mercoledì c'ho Feldenkrais Feldenkrais, o che roba è? C'è lunedì Ci aveva invitato la Stefania a cena Abbiamo Livano a cena Il concertino di Rio Mezzanino Allora, boh, l'invite che si deve fare In questa famiglia non ci si vede mai Allora si fa che domenica ti invito a cena